Ciao a tutti. Sono tornato con un altro tutorial. Oggi ti mostrerò come pubblicare uno stato su WhatsApp. Quindi ora, iniziamo. La prima cosa è andare avanti e aprire l'applicazione. Il prossimo è toccare la barra di stato in basso. Tocca a Nii il mio stato. Questo aprirà quindi la fotocamera. Puoi scattare una foto o puoi scegliere dalla tua galleria. Basta scorrere le immagini e scegliere. Una volta che hai finito di scegliere, toccalo. Puoi anche aggiungere una didascalia per la tua foto, quindi fare clic su un'invia. E ora hai finito di pubblicare uno stato su WhatsApp. Grazie per aver guardato.